La foto pubblicata su Instagram mostra Sonia Bruganelli piena di rughe in viso, il segreto dietro il matrimonio duraturo con Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli, 44 anni, moglie di Paolo Bonolis, 57, è stata negli ultimi tempi protagonista del gossip italiano a causa di alcune dichiarazioni controverse e foto pubblicate sui social in cui, secondo i suoi detrattori, avrebbe ostentato la sua vita agiata tra aerei privati e vacanze di luce. Ultimamente, la moglie del conduttore Mediaset è molto attiva sui social e non perde occasione di dire la sua e di mostrare scorci della sua vita privata. Nonostante le critiche, Sonia continua a pubblicare immagini ritraente e gli ultimi acquisti di certo non alla portata di tutti, come ad esempio borse fermate o capi di abbigliamento dai costi elevati. In altre foto, vediamo invece la Bruganelli farsi dei selfie assieme ad altri amici di Non dimentichiamo, tra gli ultimi, quello con Paola Perego avvenuto pochi giorni fa durante un aperitivo in riva al mare. Tuttavia, in uno dei suoi recenti scatti, la 44enne si è mostrata in uno status fisico che ha sconvolto la maggior parte dei suoi follower, la moglie di Paolo Bonolis è infatti apparsa piena di rughe in volto. Sonia Bruganelli, il selfie che ha stupito i fan. La foto in questione è visibile nel nostro articolo come immagine in evidenza. In questo selfie, Sonia si è mostrata completamente struccata senza alcun ritocco della foto. L'effetto è sconvolgente, in quanto vediamo qui come Sonia porti in maniera molto evidente i segni dell'età sul volto, resi ancora più marcati dopo una giornata trascorsa a prendere il sole. Sonia Bruganelli, atto di civiltà a dormire in camere separate. Quello tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è un amore che va avanti da circa 20 anni, un matrimonio coronato dalla nascita di ben tre figli ed è un ottimo rapporto con quelli nati da precedenti relazioni. Ma come mai Paolo e Sonia sono una coppia così affiatata? Finalmente, in una recente intervista ad Agostino, la moglie del conduttore di Ciao Darwin e avanti un altro ha reso noto il loro segreto. Il trucco è nella passione e nel rispetto dell'individualità altrui. La Bruganelli ha fatto comprendere come, all'interno di un rapporto matrimoniale sia importante ritagliarsi comunque piccoli spazi personali. Credo sia un atto di civiltà a dormire ad esempio in camere separate ha dichiarato l'ex attrice di fotoromanzi. Questi piccoli elementi saranno davvero la ricetta per un matrimonio felice e duraturo.